Sportivi applausi! Parte il secondo truppo a primo, Siveroni, categoria Ievi. Potenza alla natura turistica, Fino. 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 No, I gave my heart away No, baby, I stay here before you Can't pull the wires No, 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 no You said you needed love I said that you just wanna play I, I'm always thinking of you Baby, I'm giving you my life If you believe in me, I will try And give it to you Mamacita, mamacita buena Mamacita, mamacita buena Mamacita, mamacita buena Que yo tan padre, que yo tan padre Mamacita, mamacita buena Mamacita, mamacita buena Mamacita, mamacita buena Que yo tan padre, que yo tan padre You said you needed time I'm always doing as you say And when it comes to love You said you have to stay away No, no, baby, I still feel the fire You and me can't pull the wires No, 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 no You said you needed love I said that you just wanna play But I, I'm always thinking of you Baby, I'm giving you my life If you believe in me, I will try And give it to you Mamacita, mamacita buena Mamacita, mamacita buena Mamacita, mamacita buena Que yo tan padre, que yo tan padre Mamacita, mamacita buena Mamacita, mamacita buena Mamacita, mamacita buena che vittà amare, che vittà amare 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 Pavoro rinviene sul polcarelli intanto salutiamo Pasquale Appenate applausi dalla campagna il cui vittorioso Pianura di sconti Pasquale Appenate Stop 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 Un'ora 45 ed eccolo via protagonista assenze Patink Favaro campione provinciale del continuo Salmoneta un applauso un applauso a un grande Antonio Forcarelli il primo podio di Forcarelli Junior in una gara su strada e poi cerchete perché sempre l'hai ripetito Pianura 45 vittorio la campagna iniziale su pista 2013 e intanto continuiamo l'applauso Pianura Visconti con il numero 30 si tratta di una squadra del prete grande prova grande prova di carattere di Pasquale Appenate e di tutta la sua squadra Pianura Visconti Pianura Visconti Ragazzi ci spostiamo un po' da qua? un applauso per la cavo di Alessandra Pianura Visconti uno dei protagonisti della squadra che ha caratterizzato la parte centrale della corsa che è stata riassobita anche dalla torpella dei titoli segretori e ho preso uno ad uno e ancora attenzione applausi per l'1.32 per la squadra ovvero la campagna di Alessandra è stata riuscita per la squadra 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 è un doveroso è un doveroso ringraziamento perché onorano e soprattutto sono sempre chiamati in causa anche ad onorare non solo con la partecipazione ma anche a conciliare le esigenze di calendario per quanto riguarda il discorso delle gare